Siamo qui a Cannes con Gabriele Salvatores che è venuta a parlare di un suo progetto, appunto un film dal titolo Come Dio comanda, tratto da un romanzo di Niccolò Ammanniti, dal romanzo del quale appunto aveva già girato Io non ho paura. Ecco a questo punto le chiedo, cosa la lega da Ammanniti e da un punto di vista proprio strettamente letterario, ma anche da questo momento un po' anche umano mi chiedo. Sì è vero perché è un po' che ci lanciamo la palla io e Niccolò, guarda io innanzitutto devo dire che è una persona con cui mi diverto molto, mi diverto perché per l'intelligenza che ha, per la creatività, mi diverto perché è una persona divertente, ridiamo molto E mi diverto perché poi dal punto di vista proprio strettamente del nostro lavoro, lui è uno che sa guardare le cose con uno sguardo che forse è vicino al mio. Lui è biologo, non so se sapete, quindi ha una capacità di indagine, di osservazione dei comportamenti umani che è particolare, quasi da scienziato. E questa cosa mi piace e nello stesso tempo non è mai freddo, ha sempre delle storie che ti toccano il cuore, quindi credo che questi siano i motivi principali. Senta, lei negli anni 80 girò una serie di film, diciamo qualche film che sono stati definiti generazionali, insomma era il ritratto dei 30-40 anni di quell'epoca. A questo punto queste persone sono cresciute, sono diventate oltre 50 anni, potrebbe ancora girare un film generazionale su queste persone o si sono un po' divise nel tempo queste caratteristiche? Ma guarda, quelli hanno avuto dei figli, infatti manco a farlo apposta, ultimamente mi toccano storie di padri e figli, non le vado a cercare che vengono loro, quindi non sarà un caso. Sai, io la cosa che non sopporto sono gli adulti che raccontano i giovani, sei stato giovane e hai raccontato quella cosa, adesso sono i giovani e devono raccontare i giovani, secondo me. Si può tranquillamente indagare nei rapporti tra adulti e giovani, oggi la gioventù è quasi considerata un fatto criminale e bisognerebbe chiedersi perché però tanti giovani sono così arrabbiati, probabilmente hanno un motivo e il motivo forse siamo noi, quindi semmai si dovrebbe fare un film così. Ecco, il cinema italiano sempre più frequentemente prende spunto dai libri, dai grandi successi editoriali di questi ultimi anni, da Non ti muovere, a Chaos Calm, eccetera, eccetera, lei stessa appunto con l'ultimo romanzo di Ammaniti. Allora, mi viene da pensare che esiste una nuova generazione di scrittori in Italia, ma forse non esiste l'equivalente per quanto riguarda appunto la categoria degli sceneggiatori, come mai secondo lei? E' curiosa, in effetti è una domanda che mi pongo spesso, è vero che i nuovi scrittori e non solo italiani, quelli diciamo che dopo guerra hanno nel loro immaginario il cinema, il racconto cinematografico, i ritmi cinematografici, quindi spesso i nuovi romanzi e non solo italiani, ripeto, sono più traducibili in film. E' vero anche che noi in Italia abbiamo un po' un vizio, non ci accontentiamo di quello che sappiamo fare, un aiuto regista deve diventare regista, un attore se può diventa regista, voglio fare tutti i registi, anche gli sceneggiatori a volte vogliono solo diventare registi. Invece forse io mi metterò a scrivere a questo punto con grande interesse, invece è bello quando le professionalità sono specifiche e dialogano tra di loro, forse è un problema degli sceneggiatori italiani che sono bravi, perché sono bravi è quello di non pensare di essere solo sceneggiatori, non so come dire, è un lavoro fondamentale per il cinema, lo sceneggiatore, è il cuore del film, se hai una bella storia poi è molto difficile che fai un brutto film, ma è capitato a grandissimi registi di fare dei film brutti perché la storia era brutta. Un'ultima domanda, lei è un regista che ama sperimentare, anche coraggiosamente, all'apice del successo ha cercato nuove strade, abbandonando quelle che potevano essere anche dei successi facili. Le chiedo se questo coraggio, questa sperimentazione le è tornate indietro sotto forma di gratifiche, attraverso la critica del pubblico, e mi riferisco soprattutto a Quo Vadis Baby, che era un film particolare, coraggioso e che forse poteva andare anche meglio, non lo so. Sì, ma io direi che sono contento di questa cosa, sono contento della domanda, ma sono contento anche di quello che sta succedendo. Quando ho iniziato a fare cinema la critica era molto dalla mia parte, parlo dei primi due, tre film, e poi dopo Mediterraneo, dopo l'Oscar, chiaramente hanno preso un pochino di distacco, ma forse anche giustamente. Adesso cominciano i critici, cominciano in qualche modo a riconoscere questa cosa e mi fa piacere, non perché voglio avere dei complimenti, ma perché è il lavoro che sto cercando di fare, cioè provare a spostare sempre un po' più avanti la linea dell'orizzonte, imparare sempre cose nuove, non solo per me, ma anche perché magari altri colleghi possano rifletterci. Quindi sono contento di quello che sta succedendo. Bene, grazie e tanti auguri.